La revisione delle circoscrizioni giudiziarie torna ad interessare il Consiglio regionale con una mozione presentata dai rappresentanti dell'intergruppo di consultazione Mollica, Falotico e Navazio. Nel documento i consiglieri fanno presente che ancora una volta la riorganizzazione priva il territorio del Vulture Alto Bradano di una struttura importante come quella del Tribunale di Melfi, che dovrà essere accorpato al Tribunale di Potenza. La sottrazione che, si scrive nella mozione, non considera le ripercussioni sull'intero territorio, anche dal punto di vista delle difficoltà legate agli spostamenti viari. I consiglieri ricordano che, a quanto si è appreso, la Commissione Ministeriale per la Revisione delle Circoscrizioni avrebbe licenziato una proposta nella quale il Tribunale di Melfi sarebbe messo in salvo e chiedono alla Regione di sostenere l'approvazione e vigilare che la struttura melfitana non venga penalizzata.